Ciao! In questo video vi mostro come realizzare in maniera semplicissima questo profumo solido. È veramente semplice da realizzare ed è ottimo perché poi potete metterlo tutte le volte che volete. Vi lascia la pelle morbida, vellutata e profumatissima. Dura veramente tutto il giorno, però potete metterlo anche più volte durante il giorno se volete aumentare ancora di più il profumo. Potete metterlo in contenitori così piccoli e portarvelo sempre in borsa. Io vi lascio il tutorial, spero vi piacerà e fatemi sapere come vi trovate. Ciao, un bacione! Ciao, un bacione! Ciao, un bacione! Ciao, un bacione! Un bacione! Ciao, un bacione! Ciao, un bacione! Ciao, un bacione!